La stasetta è una fitta trovata, per il momento va beh. Non c'è altro da fare, finirà sto calendario e qualcosa cambierà se non rinchi devo lontanare. Corre mio, corre mio, la speranza non costa niente, quanta gente c'ha, tanti soldi e l'amore no. Pensiamo meglio noi, che non mangiano mai come il mio, la speranza non costa niente. Se potete pensare pure nel meglio, ma che vuoi far? Per ora c'è il suoi te e la scuola arriverà. Un lavoro magari aggiornato, per il momento va beh. Siamo gente ed è porcata, che alla vita ci tiene. E siamo nati da povera gente, è la nostra realtà. Ma le vie ce ne sono tante, tra di modi per sconare, ora andiamo se li accendiamo. Corre mio, corre mio, corre mio, la speranza non costa niente. Se potrebbe pensare pure nel meglio, ma che vuoi far? Se potrebbe pensare più nel meglio, ma che vuoi far? Per ora c'è il suoi te e la scuola arriverà. E ora c'è il suoi te e la scuola arriverà. Ma liberai, ma liberai, ma liberai Beh, grande performance, l'orchestra, Siria e Flora canto, attenzione